Resta accurtissima la classifica nel campionato di promozione dove però in testa vincono tutti ad eccezione di Alcavo e Fulgatori che pareggiano 0-0. I bianconeri raccolgono il primo put al Catella dopo due rovesci e seppur in condizioni molto rimaneggiate costringono la capolista a giocare sempre dietro la linea della palla ed a incorrere nei soliti giochetti ostruzionistici pur di portare a casa il punticino. L'Alcavo fin dall'inizio prende in mano le redini del gioco e al quinto del secondo tempo realizza una rete regolarissima con Faraci che però viene annullata dall'arbitro per un inesistente intervento falloso dello stesso attaccante. Finisce così 0-0 e in testa il Camarat scavalcando il Fulgatore e la nuova capolista. Nel basket ad Alcavo c'è una squadra che sa solo vincere e la Libertas che seppur ripartita dopo due anni di stop dal basso cioè dalla promozione ha conquistato ieri il settimo sigillo, sette vittorie su altrettante gare disputate di cui ben cinque in trasferta. E direi che ieri sul parquet del Salemi la squadra di coach Ferrara registrava assenze pesantissime Capitan Butera a Grusa e a Damo. Sempre in vantaggio fin dall'inizio gli Alcamesi hanno fatto avvicinare un paio di volte i salemitani ma soltanto nel secondo periodo. Una vittoria quindi importante e ancora più bella sia perché consente di continuare la striscia positiva e sia perché porta la firma dei giovani. 25 punti e 5 triple di Lorenzo Abbinanti classe 2005, 18 di Cusumano con una triple e 14 di Lamonica entrambe del 2004 in doppia cifra con 14 punti anche il 23enne partinicese Alfano. E chiudiamo con la palla a mano sulla capolista Etna Mascaluccia. Si è abbattuto il ciclone Alcavo. La squadra di Rande si è andata al di là della già splendida prestazione che le aveva consentito una settimana prima e contro lo stesso avversario di conquistare la Coppa Sicilia. Con questo roster e con questa determinazione Alcamo potrebbe anche giocare e far bene nel campionato di A2. Spettacolo nello spettacolo Vincenzo Randes è ritornato ai livelli che qualche anno fa gli consentirono di diventare pedina importante della nazionale under 20. Poi la precisione certosina di Giacalone nei rigori, l'estro e l'alta tecnica nelle conclusioni di Dattolo e Saitta, il recuperato Grizzo capace anche di improvvisarsi portiere per i due minuti affibbiati a Crimatopoulos. Alcuni grandi interventi di quest'ultimo. Una squadra sospinta pure da Lipari e Fagone che ha portato in rete tutti quanti, pure chi come Vaccaro, Rimi e il nuovo arrivato Riccobono hanno giocato soltanto pochi minuti. 41-28 il risultato che ha spazzato via dal parquet quel Mascaluccia che finora aveva sempre vinto. Una vittoria veramente con un margine inatteso, 41 reti ma soprattutto 13 di scarto nei confronti della capolista imbattuto. Te lo aspettavi? No, il Mascaluccia è sempre stata una squadra molto dura, molto che difende tanto e corrono tutto il tempo. Arrivano al sessantesimo come se non avessero mai giocato, freschi, sono giovani e quindi riescono a correre tanto. È stata una vittoria meritata sul campo perché veramente abbiamo lottato fino all'ultimo. Peccato per il nostro compagno Fabio Saullo che si è fatto male, speriamo che non ci sia nulla di grave. Tra l'altro tu hai ritrovato il gol dopo essere rietrato dopo lungo Calvari, un'operazione al tendine d'Achille non è poca roba. No, no, assolutamente. Sono passati un anno e dieci giorni dall'ultima volta che ho giocato. L'ultima volta è stata il 19 dicembre del 2021 a Palermo. È stata dura, non è stato un percorso facile. L'infortunio è stato grave, però ci siamo rimessi al 100%. Giocare di nuovo in casa per la prima volta è stato stupendo. Tra l'altro ti sei dovuto inventare anche portiere per i due minuti affibbiati a Crimatopoulos. Sì, quando ero più piccolo avevo cominciato proprio da fare il portiere, quindi mi sono un attimo ritrovato nell'ambiente di 16 anni fa. Questa squadra con un organico così, con Randes recuperato, Fagone e quant'altro, è sicuramente una squadra che può dire la sua anche probabilmente nel campionato superiore. Assolutamente sì. Quest'anno il nostro obiettivo è proprio questo, riuscire a salire di categoria e riuscire a prendere il posto che ci spetta da ormai un paio di anni. Partita direi perfetta. Sembrava che nella gara di Coppa Sicilia più di questo non potevate fare, invece stasera siete andati ben oltre, dando anche un margine enorme alla capolista in battuta. Credo che con un po' più di attenzione forse i gol potrebbero essere anche di più. Non bisogna essere ingordi, però credo che stiamo raggiungendo un livello di gioco e di forma davvero ottimale. Poi la vittoria in Coppa ci ha fatto veramente bene. Speriamo di continuare su questa strada, abbiamo visto una bellissima pallamano questa sera. Ovviamente conosciamo a minore la loro difesa, noi ci siamo buttati dentro a capofitto, quindi sapevamo come giocare la partita. È stata praticamente la stessa, ma con molte più reti da parte nostra. Abbiamo davvero giocato bene e abbiamo giocato bene soprattutto in difesa, perché abbiamo messo sotto pressione costantemente, non hanno trovato spazi e quindi anche loro hanno avuto difficoltà a riportare in velocità. Anzi, chi è andato più veloce è stato di noi, abbiamo fatto un mare di gol in contropiede. Diciamo che ci sono un paio di amarezze in questa partita. L'infortunio a Saullo, di cui non conosciamo ancora l'entità, e poi ti sei indispettito per alcuni falli un po' oltre le righe da parte di un paio di giocatori mascalucesi. Loro sono una squadra giovane, ma hanno due ragazzi più anzianotti che stanno come fare. La partita è reandata, il fallo su Fabio è stato veramente gratuito, per non parlare di quello su Saitta, che l'arbitro neanche hanno sanzionato. Quindi dovrebbero fare i direttori di gara un pochettino più di attenzione su queste cose, anche quando la palla non è vicinissima al luogo dove avviene il fallo. Squadra giovane, però a volte con quelli più anziani bisogna stare un pochettino più attenti. Questo è quello che è successo, ora speriamo che non sia nulla per Fabio di grave e che possa recuperare al più presto.